Eccoci di nuovo, è venerdì e siamo a Terra Argillosa, ad Offida. Adesso siamo in mezzo alla vigna, nel nostro Sirà. Il Sirà è un vitigno molto molto interessante, un vitigno internazionale, ve lo faccio vedere. Cresce molto velocemente, cresce prima degli altri, ha queste belle foglie enormi e crescerà ancora in lunghezza tantissimo. E queste foglie porteranno a una fotosintesi che farà crescere questi grappoli in maniera molto molto armoniosa. Per avere alla fine un vino decisamente intenso, speziato e con molta classe. Eccolo qui, il Sirà. Buon fine settimana a tutti e buon brindisi a tutti.